Caro giornalino, il mistero del collegio Pierpaolo Pierpaoli, ai minuti contati. Esimia direttrice, illustrissimo direttore, qui nel vostro collegio una furtiva ombra si aggirava. Un pericoloso malvivente stava mettendo a repentaglio l'incolumità dei vostri poveri bambini ricchi che voi con indefesso umore avete allevato come maialini dal latte. Ma fortunatamente il mio fiuto non ha fallito e così ho incastrato il pericoloso malvivente e l'ho rinchiuso nello sgabuzzino. E lei chi sarebbe? Io sono l'assessore civic, imbecille. Signori, per favore, arrestate quel delinquente. Ma no, c'è un errore. Cara ombra, ti ho sottotiro. Sarà vera gloria per il commissario Maigret? Vedremo, giornalino mio. Vedremo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Egregi direttori, confesso che non mi aspettavo questa vostra visita. Di cosa si tratta? Commissario, lei sa benissimo perché siamo qui. Su via, perché tanta reticenza. Zitto tu. Commissario, lei è venuto e è rivenuto in incognito nel nostro povero collegio per bambini ricchi. Di certo per investigare su qualche cosa, non neghi. Come potrei negarlo? Allora lo ammette? Certo, ero in missione, ma su un incarico di un cliente che preferiva mantenere l'anonimato. Chi? Stoppani. Giannino Stoppani. Ma non preferiva anonimato. Ah già, vabbè, mi è scappato. Stoppani, quel demonio, buono a sapersi. E si può sapere la causa dell'incarico? Vede, direttrice, il dottor Stoppani dice di aver visto e rivisto a girarsi intorno all'edificio collegiale un'ombra sospetta. E mi ha incaricato di fare un'indagine a proposito. E come procedono intagini? Sì, sono a un passo dalla soluzione. Vuol dire che sospetta di qualcuno? No, brancolo nel buio più nero, ma poiché questa è l'ultima puntata, immagino che ne verremo presto a capo, sempre che gli autori ne abbiano una qualche vaga idea. Genio! Basta con le otteri. Commissario, le devo confissare una cosa. Io pensavo che lei fosse un'incapace e invece vedo che le sue rotelle girano a meraviglia. Bontà sua. Ma sono qui per denunciare anche io qualcosa di sospetto. Parli prima che impazziamo. Ho visto anch'io l'ombra, ma non sapevo che lei era già sulle sue tracce, ora lo so. Ha visto l'ombra? Sì, l'ha fiesta. Era nell'aula del direttore. Stava cercando qualcosa, erano le tre di notte, sono entrata e l'ho vista. E che ci faceva lì a quell'ora? Si faccia i fatti suoi, commissario. Sì, certo. Dicevo, ero lì e ci ho trovato l'ombra. Era di certo un'ombra. Stava cercando qualcosa nei cassetti. Appena mi ha visto, è fuggita via. Dalla finestra? No, dal muro. Vuol dire che ha attraversato il muro? Sì. Capisco. Vuole un cioccolatino? Magari! No! BAM! Oli da! ha. Voi tornate tranquilli al collegio, io tra un'oretta circa sarò là. Ma dobbiamo fare come se non ci conoscessimo. Facciamo naturali come le altre volte che sono venuto da voi a cercare il lavoro. Questa volta sarò vestito d'autista, però voi dovrete organizzare una gita scolastica. Ma con quali fonti? È per finta sciagurato. Ah, meno male. Stasera quell'ombra marcirà in galera. Ma se attraversa i muri. Zitto scienziato. A tal proposito, ha trafugato qualcosa quell'ombra dall'aula del direttore? La mia fotografia autografata del Zacchini. Lo prenderemo. Glielo prometto. Glielo prometto. Buongiorno ciccio. Vedo che sei pronto a partire. Sì, egregia signora Megre. E dove si va stavolta? Sulla luna! Molto bene. E che ci vai a fare? Era una facezia, signora mia, così per ridere. Non dirmi che è un travestimento per imboscarti di nuovo in quel collegio. Imboscarmi non è la parola. Sono impegnato in un'indagine di polizia. Vestito così. Questa è solo la divisa d'ordinanza d'autista di Pullman per gire in un collegio per bambini ricchi. Poveri noi. Sì, ma stavolta siamo alla resa dei conti. Speriamoci, ci stiamo spendendo milioni in bende e cerotti. Se ben si ricorda, l'idea dell'autista è stata la sua. Ma non puoi seguire la lettera ai miei consigli. Se ti suggerivo di vestirti da nudista. Non sia tendenziosa. Il nudista non si veste. Vabbè, almeno sei lucido. Lucidissimo. E sono a un passo dalla soluzione. Ma che soluzione? La vedremo, signora mia. La vedremo. Io vado a dormire da mia madre a questo punto. Sei bene che in questo collegio io ho risolto la mia prima indagine? Indagine? Mi ha fatto mardere la lingua. Basta. Io e te non abbiamo più niente da dirci. Sbirro. E dai che sono cambiato molto da allora. Al collegio di Pierpaoli Ti mangia riso e cavoli Ti spaccano il capello Ti bruciano il cervello E se vuoi fai le domande Che pei pampini chiappiamo non trovi? No. Sei ancora sconvolta per creare la cosa, l'ombra. Sono indecisa sulla punizione per Stoppani Che è andato dal commissario senza avvertirmi. Ma perché? Voleva il pene di tutti? E io voglio il suo. Trenta vergate sul dorso delle mani Mi sembra che facciano abbastanza il suo bene. Non ti permetterò di matratare quell'agnellino. Provaci, trippa in umido E vedi dove ti ritrovi. Ma quando arriva, commissario? Buongiorno Siete voi i direttori del collegio per bambini ricchi Pierpaolo Pierpaoli? E tu chi sei? Sono l'autista. Capisce? Autista. Mi dispiace non è aria. Zitto sanguisuga. Ma certo. L'autista. La stavamo aspettando. Ho parcheggiato il furgone a noleggio lì in cortile. Ho fatto bene? Ma, signor commissario... Strozzati, corbezzolo. Sì, ha fatto benissimo. Ma perché non entra mentre prepariamo la classe per la gita? Con piacere. Non dovremmo prima accodarci per salario? Che stanchezza morale. Entriamo. Che cos'è che fai? Sto cercando di costruire un esplosivo plastico. Perché? Per far saltare in aria al collegio. Questa è buona. Sì, ma anche il Franti qui sa come fa a saltare in aria al collegio. Vero, Franti? Ho dalle idee. Un esplosivo plastico è quello che ci vuole. Si potrebbe fare un amolotof all'idrogeno, costa meno e fa più danni. Perché non facciamo una gara? Che intendi? Zanino! Vediamo di non farci male. Uno fa il plastico, l'altro la molotov e vediamo chi spacca di più. Per me? Ma che gara è? Se lancio la molotov prima non c'è poi niente da spaccare poi dopo. Questo da controllare. Non lo so, forse potreste organizzarvi per creare un progetto unico. Per esempio? Un reattore atomico. Lo piazziamo sotto l'edificio e poi lo facciamo schizzare sulla luna. Zio satellite! Non è un'idea malvagia. Che ne pensi? Ci si può provare. Questa volta ci facciamo male veramente. Sì! Bene. Signora autista, dove li portiamo in gita i nostri ragazzi? Cioè? Dove li porta in gita? A Firenze, a Poggi Bonzi o si va a Chiavari? Ma direttrice, io non capisco il motivo di parlarci in questo modo adesso. Perché? Non le sembra idoneo? Certo! Idoneo! Allora, dove ce ne andiamo? Beh, io la gita la farei a... Dov'è quella città che i ragazzi amano tanto andare a conoscere? Sì, ho capito. Siamo andati anche troppo oltre con questa fancetta di barletta, non trova? Non saprei. Va bene. Allora chiamo i ragazzi e comunico loro che si parte. A proposito, a che ora si parte? Io direi subito dopo pranzo. Io direi subito prima, così evitiamo il pranzo. Ma i ragazzi dovranno pur mangiare qualcosa. I ragazzi staranno venune. Lei li conosce meglio di me. Io continuo a non capire. Quando mai hai capito? Mai. E allora continua a fissare il soffitto. Signor autista, ma dobbiamo venire anche io e quel calamara muffito di mio marito nel furgone con gli altri? Direi di sì, vede l'idea è questa. Basta. Ho capito. Lasceremo il collegio vuoto e incustodito per qualche ora, non è vero? Eh già, il collegio sarà desolato e senza difesa per un bel po'. E speriamo che non ci sia nessun malintenzionato e voglia entrarvi di soppiatto. Già. Ma io devo mettermi la cravatta per la città? Sì, così magari ti impicchi. Vai, corri ad avvisare i bambini che dopo la lezione di teatro si parte. Che vuole mai un fuoco? Una gita. Questa è nuova. Ragazzi, c'è una novità. Si fa una gita. Una gita? Ma che gita? C'è un autista, vestito da astronauta. Si deve portare in gita. In gita ci vanno poi loro. Eppure loro ci vengono. In gita? E dove? Beh, di certo in qualche luogo selvaggio del centro-sud. Probabile. Ragazzi, ma come ci si va in gita? A piedi? È vero. Ma quest'autista la tiene l'automobile. Sì, ha un furgone. Così dice. Ha un furgone ed è vestito da astronauta? Sì. Hai sentito Franti? Stai pensando quello che sto pensando io. Beh, se dobbiamo costruire un reattore atomico che arriva fino sulla luna, perché non provarlo prima con un furgone? Già. Ragazzi, siete sicuri? Di certo. È la soluzione più semplice. Sì, e se esplode che fine facciamo? Ma non può esplodere. Al massimo parte come un cellulino dritto per dritto a 300 km a seconda. Sì, ma io non ci voglio essere dentro quando lo si prova, eh? Ma chi ci vuole stare? Lo montiamo e facciamo in modo che l'autista accende il motore quando non siamo ancora in camera. E da lì, boom, vediamola com'è da. Sì, è che due geni. Ragazzi, volevo avvertirvi che Topo Teatro si parte per una breve città di istruzione. Ma che ci fate sempre chiusi qui dentro? È malsano! Beh, preparatevi! Che anche io devo correre per mettere cavatta pulita. Bene, schifezzelle. Oggi è un giorno bellissimo perché è l'ultima puntata e quindi da domani ognun per sé. Perciò voglio essere clemente con voi e quindi non faremo l'esercizio del libro cuore oggi, ma ci dedicheremo a conoscerci un po' meglio. Tu! Come ti chiami tu? Giannino, detto Gian Burrasca. Ah, Gian Burrasca, ma guarda, e conosci il giornalino di Gian Burrasca, immagino, è vero? Certo, come potrei non conoscerlo. Bene. E dimmi un poco, di che cosa parla? Oddio, parla di me. Io al collegio con i miei amici e la pappa col pomodoro. Bravo! Vedi, sei bravo. E dimmi un poco, da dove vieni tu? Da Barletta. Ma no, ma no, ma perché? Ma no, ma perché? Maestra, è vero che lei è di Barletta? E questo cosa c'entra? Che cosa vuoi dire? Eh, ma io ne avete portato il tracollo di nervi, ecco, maledetta buia! Io, che potevo starmene a Broadway adesso, a presentare la mia mise, ne spassa qualche cosa da Pasolini, e invece me ne sto qui a sentire ragliare gli asini. Signora, maestra, non pianga! Lo sa, noi le vogliamo bene. Tu sei pazzo. Io lo amo. Sei una persona gentile, tu. Come ti chiami, Garrone? Garrone. Garrone, Garrone, bene. Mi ricorderò di te, quando tutto questo non sarà altro che un piacevole ricordo. Sarebbe meraviglioso se si ricordasse di me, vede, io. Vamo. Ah, tu mi ami. Sono lusingata, Garrone, bello. Immagino che sia la prima volta, questa, che ti innamori, è vero? No, non rispondere. Sai, ora dovrai trascorrere giornate terribili. Picche io, me ne vaga, me ne torno a Barletta, si è ringraziato padre eterno. Invece tu te ne rimani qua, per sempre. Senza di me e tutti i tuoi compagni, giustamente, non avranno nessuna pietà per questa tua debolezza nei miei confronti. Ma comunque io ti voglio ringraziare per bene. Declamerò per te una breve poesia sull'amore. Vattene, amore, che siamo ancora in tempo. Vattene, o saranno guai. E magari ti chiamerò. Grottolino amoroso, dudu, dadadadà! Bene. Basta. Duemila piegamenti. Ora. C'è il dudino. Bene, direttore. Siamo pronti? I ragazzini dove sono? Scentono subito. Valle a chiamare e facciamola finita. E quei due che ci fanno in giro, si è scorrazzare liberamente. Ehi, voi due! Buongiorno, direttrice. Buongiorno, un corno. Dovete andare a prepararvi. Sì, stavamo andando. Però abbiamo visto qualche cosa che gironzolava intorno al furgone. Abbiamo pensato che fosse un ladro. Gironzolava intorno al furgone? Un ladro? Corriamo a prepararci. L'ombra. Lo penso anch'io. Meglio che vada a vedere se il furgone è ancora in ordine. Anzi, magari potrei metterlo in moto e verificare che non abbiano manomesso i freni e farmi un bel giro del cortile. Oh, per la callina pianca! Nessuna paura. Vado e torno! Ragazzi, ci siamo! Oh, abbiamo piazzato il reattore nel tubo di scappamento. Questo dovrebbe innescare la reazione atomica all'accensione del motore. E poi? E poi Dio vedo, proviamo. Oddio. Ecco. È vestito da astronauta. Ma hai abbigliamento proprio consonante. Ecco. Ecco che mettei in moto. So, ragazzi. Sta tornando giù. Una bella sciacchetta. Cos' andiamo a vedere? Tutto bene, commissario? Commissario? Benissimo, grazie. Per qualche accidenti è esploso il motore, ma in compenso sono atterrato sul mio obiettivo. L'ombra! Già, l'ombra. Finalmente scopriremo chi è. Bene. Siamo alla conclusione. Ma chi è l'ombra? Ci sono tre possibilità. Potete scegliere quella che vi piace di più. Ecco le alternative. La maestrina dalla penna rossa! Sì, sono io. Stavate rovinando lo sceneggiato più bello della storia della televisione italiana. Non potevo permetterlo. Maledetto Megre! Ma poi tu che centri! Ma signora Megre! Sì, maledizione. Volevo darti la lezione che ti meriti, stupido idiota. Sono vent'anni che mi dai il tormento. Sono arci stufa. Ne sono dolente. Ma per forza di cose adesso io e lei dovremo rimanere un po' alieni. È in arresto. Ebbene sì. Improduttore! Ho fatto il possibile per evitare questo scempio. Ho cercato di difendere la bellezza e la cultura. E questo è stato troppo. Davvero troppo. Beh, amico, non posso darti torto. Abbiamo fatto un po' di pazzie, un po' di buffonate, un po' di avventure, un po' di baldoria. Questo è vero. Ma per fare a modo nostro della vera fiction. E ora, dalla vera finzione, si torna alla finta realtà. Ma non mi lamento. Mi basta sapere che il pubblico è contento. Ma non mi lamento. 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 Ma non mi lamento.